Grazie a tutti. Che c'è? Cosa hai in mente? Mollalo. No. Ha una famiglia, insomma, lei non può prendere questa decisione. L'FBI non può permettersi il lusso di rispettare i tuoi nobili sentimenti. Lo abbiamo guardato negli occhi, gli abbiamo dato delle garanzie. Hai fatto uscire un assassino di prigione, lo hai ripulito e lo hai messo in un posto dove hanno ucciso un agente. Se non capisci come questo farà scoppiare un casino e farà a pezzi anche te, non sei la gente che credevo fossi. Come cazzo si permette? Io ho operato sotto la sua autorità. Non vorrà darmi impasto ai lupi se non scarico un uomo innocente. Non devo darti impasto ai lupi. Non sapevo niente di questa operazione. Volevi far colpo su un superiore e ti sei spinta oltre. Diventerai un caso esemplare. Finirai in galera, te lo garantisco. Ho cominciato su questo piano ventitré anni fa. La mia scrivania era proprio lì. Mollalo. È un ordine. Grazie. Thank you. Grazie a tutti.